Ciao a tutti, bentornati a Parità in Pillole. Io sono del 1989, quindi in questo ultimo periodo molte delle mie amiche o compagne di classe hanno raggiunto quell'età in cui hanno sentito l'istinto materno, cosa che tipo, a me non sta succedendo, ma vabbè, e hanno deciso di fare un figlio. Quindi hanno portato avanti una gravidanza e hanno partorito in ospedale e alcune di loro mi hanno raccontato delle cose che mi hanno lasciata un po' interdetta, mettiamola così. Alcune di loro infatti sono state trattate particolarmente male dalle ostetriche che erano in ospedale. Trattate male vuol dire sia dal punto di vista fisico, quindi ad esempio non potevano cambiare la posizione in cui erano anche se non aveva senso che stessero in quella posizione, sono state lasciate decisamente diverse ore senza bere, per non parlare della violenza psicologica. Frasi del tipo, ti è piaciuto scopare? Ecco, adesso soffri. Siccome non è stata una persona sola a raccontarmi queste esperienze, ho voluto fare un po' di ricerca per capire se fosse effettivamente un problema oppure se avessi semplicemente delle amiche sfortunate. Beh, a quanto pare è decisamente un problema. Un problema tanto diffuso da aver fatto nascere degli hashtag per parlarne. Se cercate l'hashtag basta tacere, troverete una serie di racconti di donne che hanno partorito in ospedale e che sono state trattate da schifo dalle ostetriche e in generale dal personale medico. Questo hashtag è l'italianizzazione dell'hashtag break the silence, nato per la stessa identica ragione. A quanto pare le donne non ne parlano, o ne parlano soltanto con le amiche ma non pubblicamente, ma questa cosa è un problema serio. Talmente tanto serio che è stata presentata una proposta di legge sulla violenza ostetrica che punisca appunto questi comportamenti con una reclusione da 2 a 4 anni. Molti ginecologi non sono d'accordo con questa proposta di legge perché dicono che per evitare questi comportamenti basterebbe far rispettare le leggi che già sono presenti. Però, a quanto pare, non le stanno rispettando. Questa proposta di legge è stata presentata dal deputato Adriano Zaccagnini e che sia stato un uomo a presentare questa proposta di legge è quantomeno interessante. Da un lato sono contenta perché quindi ci allontaniamo dalla logica che il parto, la gravidanza, tutte le robe lì sono robe solamente femminili di cui si devono fregare soltanto le donne. Dall'altro mi chiedo, dovevamo veramente aspettare che arrivasse un uomo a fare questa proposta di legge? Perché non ci è arrivata prima una donna? Lascio la domanda aperta e con questo ovviamente non sto dicendo che debbano occuparsene solo le donne proprio per il punto 1 che vi ho spiegato prima, però è bizzarro, lasciatemelo dire. A me pare bizzarro. Giù nel box informazioni vi lascio tre articoli che ho trovato molto interessanti dentro i quali potrete trovare anche le testimonianze di alcune donne che hanno raccontato proprio la loro esperienza in sala parto. Sono delle testimonianze agghiaccianti, vi consiglio di leggerle. Sto cominciando ad esplorare anche il mondo della maternità proprio perché molte amiche a me vicine sono in questa fase della loro vita. Quindi è possibile che io faccia anche un'altra puntata. Mi piacerebbe parlare di tutte le ombre della gravidanza e della maternità. Perché ho la sensazione che si parli sempre dell'avere un figlio come di una cosa bellissima e stupenda e non ci si autorizzi mai a parlare invece di tutte le cose negative che può portare l'avere un figlio. Fatemi sapere giù nei commenti se potrebbe interessarvi una puntata dedicata a questo tema e nel caso mi piacerebbe tantissimo farla con un ospite ovviamente. Grazie mille per aver guardato questa puntata. Io spero di avervi fatto conoscere un problema che c'è ed è grave. Di cui magari non ipotizzavate neanche l'esistenza. Io non lo sapevo. Fatemi sapere quindi quali sono i vostri pensieri a riguardo. Scrivetemi li giù nei commenti, li leggo tutti. E noi ci vediamo se sono bravissima domani. Altrimenti la settimana prossima ma dovrei essere abbastanza brava. Grazie mille a voi per essere arrivati fino a qui e grazie per aiutarmi a creare cultura insieme. Ciao!